Signori e signori, oggi andremo a spacciare un pochettino qui a Cavala perché fa figo e dato che il cartello qui ormai vuole far sentire la sua presenza ci penserò anch'io a far sentire la mia faremo un po' di concorrenza. Nell'inventario c'ho ben quattro di eroina quindi andremo a procurare un'overdose a qualcuno. Per fare ciò andrò in piazza, ecco, ok scendi, no motore spento, mettiamo giù questo, questo, uno, due, tre, quattro, cinque, una di queste, no ho sbloccato, oh cazzo non sono più capace di guidare, perché c'ho il binocolo in mano che me ne fa, aiuto! facciamo così ok, così abbiamo attirato l'attenzione ma c'è un tipo che corre vediamo sto tipo qui non è che vuole dell'eroina? c'ho dell'eroina purissima, al 98% eh, voglio chiedere se mi costerà però eh, per la roba buona bisogna pagare, faccio 5.000 al pezzo eh, ma una cosa così non la trovo da nessuna parte, glielo assicuro non ci posso fare niente allora non mi faccio perdere tempo, se ne vada c'è un tipo che vi aspetta la vendita del rame per la tassa, Skyler si chiama ok capo perché non c'è nessuno a cavola, perché stranamente non c'è nessuno a cavola aspe aspe, questo qui in macchia, questo qui in macchia ehi ehi tu non è che ti interessa della cocaina o dell'eroina soprattutto l'eroina è pure al 98% viene il 5.000 5.000 al pezzo, purissima, al 98% glielo assicuro che è la migliore che abbia mai provato mi scusi dottore ha detto alla vendita? non ricordo, controllate il rame, tutto, miniera, vendita, tutto, vendita soprattutto controllate, sono da solo, che cazzo la devo controllare da solo meccanico 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 mi scusi dottore guardi se avviato a persona se vuole per la mia ruina 4 pezzi guardi per lei le faccio mmm facciamo 15.000 guardi no guardi non mi interessa no sto parlando con lei non faccia l'egocentrico ah scusi ok abbiamo trovato l'acquirente ce li ha comprati subito tutti e quattro, porca puttana ehi, ehi, qui, qui, qui venga, venga mi seguo sono leggermente impedito qui qui 15.000, i contanti ecco qui mi raccomando se fa un overdose è vicino all'ospedale mi sono appena fatto 15.000 con un quattro di eroina mi sono appena fatto 15.000 con un quattro di eroina i i